un saluto a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale da michele ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la citroen 2 cavalli charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese è un'edizione di agostini il modello in scala 1 a 8 e l'uscita è la numero 60 andiamo subito a vedere quello che riceviamo in questo nuovo fascicolo se tra di voi c'è qualcuno che ha piacere di dare lettura ai testi oltre che guardare le immagini ho fatto il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione andate pure a vederlo grazie ragazzi all'interno troviamo la struttura del sedile due serie di elastici adesso ne vedete soltanto pochi così come anche dei ganci metallici ne vedete pochi perché così come ho fatto per il sedile anteriore sinistro per evitare di fare il video troppo lungo mi sono già montato quasi tutti gli elastici con i ganci però me ne sono lasciati da montare due così che per chi si fosse perso l'uscita numero adesso non me la ricordo è quella lì dove ho fatto ho montato il sedile faccio vedere allora nuovamente questi ultimi due elastici con i ganci come vanno montati questo è il sedile posteriore doppio bellissimo tutto in metallo struttura tubolare verniciata guardate fascia lombare sacrale come quella vera elastici già montati ho montati prima io perché il pezzo vi arriva ovviamente così senza gli elastici c'è soltanto da impegnarsi senza delle fretta e si fa tutto ce ne sono in più sia di elastici che di gancetti ecco qua come vi ho spiegato già per gli altri due sedile anteriori il gancio ovviamente ha una parte aperta per consentire all'elastico e all'occhiolo in metallo di poter entrare eccolo qui bene io questa parte aperta l'ho rivolta tutta verso l'esterno verso la parte bassa del sedile verso la parte posteriore mentre invece contro il tessuto i ganci sono tutti chiusi qua sono tutti chiusi i ganci vedete guardate come sono aperti tutti sotto ok guardate io faccio così 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 Ecco, vedete, è molto semplice. Mettiamo l'ultimo. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, se avete piacere iscrivetevi, iscrivetevi non vuol dire nulla, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. Rido da solo perché parlo così tanto che a volte sembro dislessico. Non so nemmeno io come faccio a sbagliare, però sbaglio. Ecco qua. Guardate che spettacolo. Ma quanto è bello. È bellissimo. Ci entriamo la fascia. Va bene così. Andiamo a vedere. Adesso andiamo a montarci il sedile anteriore destro. Così completiamo i due sedili. Perfetto. Ecco qua. Quindi io ho già messo le quattro viti NM. Ricordatevi non serve che vi creiate il filetto perché è già presente nel tubolare. Perfetto. Che bellezza. Guardate che la guida si è messa perfettamente bene. Posizioniamo all'altezza dei fori i fori che ci sono nei tubolari e mettiamo la prima vite. Non stringete tutto subito. Puntatene una e andate subito a mettere questa dall'altra parte. Tanto la vedete qui se è centrata perché si vede il buco che deve essere libero. poi a posto sì ecco ecco niente così deve stare controlliamo i guidi sono a posto questi due pezzi devono essere così uno sopra e uno sotto decidete voi quale volete far passare prima non ci sono problemi questa è la posizione non potranno mai stare uno di fianco all'altro ok andiamo a metterci tutte le viti e alla fine stringiamo tutto solo alla fine bene adesso possiamo stringere quando vi accorgete che avete tanta resistenza non insistete perché sicuramente rompete poi la vite all'interno e poi sono dolori ok che bellezza guardate che spettacolo controllate anche l'allineamento devono essere perfettamente allineati vedete se non sono allineati avete sbagliato qualcosa guardate bene il tubolare sulle guide deve essere posizionato tutto nella stessa maniera non più sopra e non più sotto il sedere non deve ballare e non balla perfetto riposizioniamo questo che bello il tappetino ecco qui bellissimo questo poi verrà messo qui ecco però qua sotto ci va qualcos'altro perché non può certamente andare giù così io vedo che abbiamo questi vedete questi fori sicuramente qui ci andrà una pedana dove poi ci saranno gli altri tre spazi dedicati per poter inserire le sei viti tre da una parte tre avanti e tre dietro eccolo qua guardate che bello bene questo infatti è il risultato finale come potete vedere le cinture sono posizionate non le cinture chiedo scusa gli attacchi delle cinture una sopra l'altra vedete questo l'hanno messo così ecco ma a me piace più così è naturale così ecco perfetto bene adesso prima di salutarci prendo tutto quello che abbiamo montato fino al numero 60 e poi se avete piacere andate anche a vedere i video che andrò a preparare della Yamaha di Valentino Rossi la M1 YZ3 che mi ha dato un mio iscritto Diego se qualcuno tra di voi avesse piacere di farsi montare il modello da Michele mi contatti privatamente grazie metto la pausa preparo quello che ho montato fino a questo numero 60 e poi ci salutiamo eccoci di nuovo insieme cruscotto questi due fili sono interrotti grazie alla parte finale di questa chiave che è metallica con il semplice inserimento non va girata va inserita e basta creerà contatto e grazie a una cassa che ci varrà poi fornita in corso d'opera permetterà la simulazione dell'accensione del motore e l'accelerazione bellissima questi poi andranno qui uno da una parte e uno dall'altra tutto verniciato bellissimo questo è in plastica ma è fatto veramente bene questo è tutto in metallo qui abbiamo addirittura l'ugello per lo spruzzo del tergicristallo questo particolare in plastica guardate che meraviglia questi fili poi alimenteranno frecce e fari anteriori e ce n'è lavoro qui un progetto pazzesco riprodurre una macchina vera in scala con tutti questi dettagli non è sicuramente una cosa semplice pensate solo al lavoro ma non ne ho neanche minimamente idea figuriamoci adesso guardiamo anche quello che abbiamo montato e abbiamo davvero finito ecco qui fate sempre attenzione sotto a non danneggiare la marmita ricordatevi che ancora non è fissa quindi potreste rompere i supporti attenzione che bella è veramente grande questo modello e la Ford Grand Torino di Starsky Hatch è ancora più grande perché ovviamente la scala è sempre una 8 ma nella realtà è un modello più lungo quella Ford Grand Torino rispetto a la Citroen 2 cavalli di Charleston ecco qua ragazzi bene io vi ringrazio del vostro tempo grazie veramente con tutto il cuore di continuare a dar vita al mio canale un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari arrivederci al prossimo video ciao ciao